buongiorno federica abbata e buongiorno per il tuo primo album canzoni per altri allora franco il tuo precedente lavoro discografico era di cinque anni fa era un ep si intitolava in foto vengo male quindi esce con un album perché adesso in foto vieni meglio ma diciamo che è stato un po un percorso come ben sai poi tu sei un po stato padrino no del mio percorso che nasce principalmente dal dietro le quinte nel senso che io all'inizio forse una delle prime cose che avevo detto a vent'anni quando ho iniziato a fare l'autore grazie al genova per voi ho detto io non credo canterei mai no infatti è stato un percorso abbastanza lento proprio di coscienza di presa di coscienza personale perché tutto quello che era la canzone per me era casa era abitata naturale tutto quello che era intorno alla canzone per me era giungla quindi non avevo la capacità insomma di approcciarmi ed è una cosa che ho dovuto imparare col tempo e non a caso in in foto vengo male io mi copro la faccia no non avevo ancora questa forse anche questa forza questo coraggio di mettermici in prima linea di fatti è stato un ep di pochi brani ma con pochi poche uscite in realtà perché io poi alla fine di per sé ho continuato a scrivere appunto canzoni per gli altri no più che farne per me fino a che effettivamente un po questo slancio finalmente è avvenuto nella mia vita e secondo me è un po' coinciso anche con la crescita di federica in quanto donna no dove mi son detta bellissimo fare canzoni per gli altri però mi piace anche fare canzoni per meno cioè non solo il dare ma anche ricevere anche perché io credo che sia qualcosa che proprio alimenta la mia perlomeno la mia creatività non il mio benessere cioè il fatto di fare delle canzoni per gli altri ma anche di prendermi un po anche io un pezzettino no e l'uno alimenta l'altra no in realtà la tua prima affermazione al premio bianca da ponte è stata da cantautrice poi poi c'è stata per voi la partenza della tua attività di autrice quasi pura che però è stata in meno di dieci anni quantitativamente enorme oltre che di grande successo tu hai scritto tipo 200 hai pubblicato circa 200 canzoni che vuol dire che ne hai scritte di più quante te ne restano fuori tra quelle che scrivi e quelle che poi approdano un'interpretazione allora oddio io ho poca memoria in generale nella mia vita no quindi sicuramente tante c'è sul repertorio di 200 canzoni io farei già un pari di altre tante escluse no perché alla fine la creatività ti coglie di sorpresa cioè tu nel momento in cui ti esponi alla ricerca di qualcosa non sai cosa ti arriva fin tanto che non l'hai svolta no quindi puoi prendere un pesce piccolo puoi prendere un pesce grosso e non lo sai finché non hai completato la scrittura e quindi è così insomma a volte escono pezzi chiaramente che sono dei capolavori e altre volte escono dei pezzi chiaramente belli perché credo che un autore che lo fa di professione che scrive tutti i giorni non può fare una cosa brutta però magari fare una cosa meno speciale no e in quel caso sono pezzi che tendenzialmente cestini ma in realtà non butti via completamente perché qualcosa di utile di quel pezzo che cestinato comunque ti ritorna magari la volta dopo che ti riesponi alla ricerca di qualcosa no senti siccome però oggi dobbiamo parlare principalmente di te come interprete inevitabile chiederti cosa ti ricordi di quell'esperienza sanremesa che non si è conclusa con una vittoria è stata è stata un'esperienza è stata una scuola o l'hai cancellata allora io credo che nella vita ognuno di noi nel mentre che si mette alla ricerca della realizzazione personale incontra delle porte aperte a volte anche delle porte chiuse no io io credo che sia normale in quel momento io credo che se la porta era chiusa comunque sia delle motivazioni c'erano io credo che ognuno di noi deve fare un'analisi anche personale e di auto auto come si dice auto critica dove si fa delle domande quindi io me le sono fatte queste domande e chiaramente come ogni cosa spiacevole che accade sicuramente c'è un dispiacere dietro c'è insomma un senso di sconfitta magari in quel momento però poi questa cosa se si tramuta in rivalsa infatti io scrissi proprio quella notte una canzone che si chiama quando un desiderio cade dove dico quando un desiderio cade allora tu esprimi nuove stelle no che spero la cosa che fa che sia no che sia scusa la cosa che faccia ogni persona quando si trova una porta in faccia perché è facile arrendersi e dire è andata così basta chiudo non ne voglio più sapere no che magari è la cosa che in quel momento fai perché chiaramente sei scosso da insomma da come si può dire dalla delusione però poi è qualcosa che ti dà un enorme slancio anche vitale no di miglioramento di insomma di apprendimento di qualcosa che magari ti mancava per arrivare dove dove desideri la ricerca di una nuova occasione la il pensiero di cominciare a fare un album la lavorazione di questo album quando è iniziato quando è cominciato allora su alcune canzoni è iniziato anche due anni e mezzo fa perché comunque iniziato a mettere da parte delle delle canzoni in maniera molto leggera tranquilla non ho iniziato chiaramente perché avevo delle scadenze o dei ritmi veloci a dire adesso devo scriverlo in otto mesi no però poi in realtà dal momento in cui è arrivata proprio la volontà di fare un album e avevo ben chiaro questo questo obiettivo le ultime canzoni sono arrivate praticamente in maniera molto veloce le ho scritte forse tra cui appunto canzone per gli altri doppio nodo credo in tre mesi quindi poi a un certo punto questa cosa ha preso forma nella mia testa no prima di tutto ed è diventata un album infatti io mi chiedevo sempre come appunto mi definisci tu no sono autrice sono cantautrice cosa è federica e mi sono detto alla fine io sono entrambe no non sono né l'una nell'altra sono entrambe le cose e in questo disco l'ho fatto contemporaneamente no tornando alle canzoni che avevi cominciato a mettere da parte per il progetto album ce n'è qualcuna che ti è stata portata via perché ti hanno detto no questo voglio cantarla io è stato rischio su una canzone perché chiaramente poi la scrittura è sempre collaborazione quindi non sono mai l'unica o quasi mai l'unica come si può dire come si può dire detentrice no di una canzone e proprietaria di una canzone ma lo sono sempre con altri quindi comunque nasce anche dal dialogo dalla volontà di altri e in questo caso questa canzone avrebbe dovuto essere destinata a ma poi alla fine per una serie di motivi è tornata indietro io insomma ne sono felice sai conosci bene le modalità con cui si scrivono canzoni negli ultimi anni cioè sai bene che sono quasi sempre un lavoro di gruppo un lavoro di team ognuno fa un pezzettino eccetera il fatto che i tuoi ultimi tre singoli compreso l'ultimo e questo album siano tutti tutte le canzoni abbiano un ospite un featuring un collega che canta una scelta o è successo per caso no no assolutamente una scelta perché io sempre collaborato sempre scritto per gli altri e con gli altri in questo disco volevo metterci federica volevo metterci me stessa volevo mettere la mia natura che è sempre quella di collaborare con gli altri e di scrivere per gli altri e quindi l'ho fatto in questo disco nella sua c'è in tutte le canzoni e come li hai scelti i tuoi partner canzone per canzone per empatia per per e in realtà scrivendo la canzone un po come fa l'autore pensa ad un'affinità no con quella linea melodica o con quel testo e quindi è avvenuto così magari su una canzone io dicevo cavoli questa canzone sarebbe bellissimo farla con perché quella quell'altro avrebbe la possibilità di di renderla ancora più bella e quindi poi ho scelto ho scelto così i vari compagni di viaggio no di queste nuove canzoni leggevo stamattina il testo di canzoni per gli altri che potenzialmente un testo molto autobiografico lo è davvero o è un'impressione no no lo è lo è tante volte uno si chiede se una persona che scrive canzoni scrive canzoni pensando a qualcun altro o pensando anche solo poeticamente a qualcosa che magari non sta vivendo ma io credo che ognuno di noi seppur dosando chiaramente il proprio contributo personale perché poi quella canzone andrà a qualcun altro mette un pezzo di sé quindi in canzoni degli altri parlo di come realmente io prima che quella canzone venga data a qualcuna metta qualcosa di me stessa che mi appartiene prima quella canzone appartiene a me e poi viene data a qualcun altro quindi un po di verità c'è dentro quella canzone quindi in canzoni per gli altri parlo di questo quante notte ho passato parlarti scrivendo soltanto canzoni per gli altri per parlarti davvero no per parlare a te per parlare a qualcuno canzoni per altri la canzone è la canti con elisa che è un una cosa anche abbastanza impegnativa insomma per una cantante più o meno agli esordi cantare con un con una voce così com'è andata la registrazione allora io lì abbiamo lavorato a distanza e elisa chiaramente era un enorme sogno perché per me lei la più grande autrice anche che abbiamo in italia quindi canzoni per gli altri non poteva che trovare la sua massima no come si può dire espressione attraverso la voce di un'altra donna autrice anche come me quindi per me è stato chiaramente a livello vocale c'era un enorme timore reverenziale perché chiaramente elisa è oltre che essere un'autrice incredibile anche un'interprete pazzesca e sono stata veramente contenta di poter condividere questa canzone con lei e insomma spero di non aver figurato però al di là di questo siamo entrambe state molto felici di condividere questa cosa quindi l'abbiamo fatto veramente con entrambe col cuore e lei io non ho parole per ringraziarla per questa questo regalo enorme senti quando si pubblica un album cominciano gli impegni promozionali come quello che stai avendo con me adesso sei preoccupata che questa fase ti porti via attenzione o determinazione nell'altra attività ma è qualcosa che comunque ho voluto è una cosa un atto di volontà no il fatto di voler fare un disco è chiaramente di promuoverlo e di crescere non solo in quanto autrice ma anche in quanto artista quindi sicuramente qualcosa che so che mi toglierà qualcosa ma so che anche mi darà qualcos'altro con la costanza e col tempo sicuramente bene allora non te ne faccio perdere dell'altro io perché so che è una serie di interviste credo che noi ci vedremo spero che ci vedremo a genova assolutamente sì a brevissimo a brevissimo devi ricordare quello che mi dicono dalla regina esatto devi ricordare quello che mi hai detto all'inizio esatto che il 26 novembre ci sarà una data evento di presentazione di canzoni per gli altri alla santeria di milano e finalmente ci sarà l'occasione di condividere concretamente queste canzoni con gli altri sia quelli sul palco che le persone che insomma verranno eh spero a insomma tenermi a sostenermi e a condividere questa bellissima pensi di riuscire a portare anche tutti anche tutti quelli che hanno cantato con te e ci stiamo lavorando chiaramente poi ognuno di loro ha i suoi impegni eh quindi speriamo insomma bene che che più siamo meglio è insomma va bene grazie tante Federica in bocca al lupo per canzoni per gli altri e per tutto il resto. Grazie mille Franco un abbraccione grandissimo. A presto. Dai ci vediamo prestissimo noi.